Perché il 26? Perché il 26 è diventato il mio portafortuna, perché è la data di nascita del mio figlio, che è nato il 2 di 6, il 2 giugno. Adesso mi chiama sempre Lele, non so perché, non so, ma anche a me mi piace il nome, mi piace perché vedo tutti e tutti siamo insieme, una compagnia e una famiglia, questo è buono. Io sono Ronaldo. Chiesman, sei anni fa, sì. Vandev, secondo me questo diventerà, è già adesso, però al prossimo anno vedrai dove sarà, perché lui è veramente forte, 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 forte. Liberopoulos, è lui, è più forte per me. Dusan Baiovic, mi ha preso in Aikapa e con lui ha giocato in Champions League, con lui ha giocato un campionato, tutto campionato con Aikapa nel primo anno. Yanis Aleksoulys, è lui che come secondo padre. Mi piace lavorare sempre con allenatori, quando lavora molto, molto vicino con giocatore. No, il mister è per me un bravo, bravo, anche allenatore, anche come uomo, perfetto. Formula 1 o MotoGP, questo mi piace tanto. No, io sono con finlandese sempre, non so perché con finlandese piloti. Vabbè, adesso sono con Ferrari, normale. MotoGP, tutti con Valentino, è normale. Però visto che qui a Bologna il basket è... L'NBA guardo, che comunque è spettacolare e tutto quello. Se faccio adesso Tengono 2, sicuro strappo. Sicuro. Sì, ho fatto livello di combattimento, sì. No, 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 io ho fermato 17 anni. Mio figlio ha 3 anni e vuole giocare sempre alla Playstation e quindi sono a casa a giocare a Playstation con lui o magari vado al cinema con lui. Noa. 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 Con l'H. Con il tenista. Con me il tenista, sì. Per passare il tempo libero, prendo la mia famiglia e vado in centro a fare un giro, a mangiare qualcosa o stare a casa per vedere un film, così. Musica. La musica mi piace tutta. La musica che ascolto io è R&B. Quindi è un po' tipo così. Questa è la R&B. Musica americana. Il ladro. No, non è vero. Non è vero, non è vero. Eeeh. Musica americana. No, è difficile pensare a qualcos'altro. Difficile, sì. Difficile, non ho mai pensato perché anche a scuola non è che andavo benissimo, quindi... Sinceramente non lo so, sai. Non lo so. Prosto? Buono? Perfetto. Grazie.